Mondario, provincia di Pesaro Urbino, 280 metri sul livello del mare, nevica ininterruttamente da 48 ore. Questa che vedete non è un comodo di neve ma è un muretto ricoperto dalla neve e un muro alto di 1,20 m circa. Questa è la situazione. In direzione est, il panorama è completamente imbiancato. Laggiù, oltre alla linea dell'orizzonte che non si distingue, ci sarebbe il mare. Questi sono due gatti, non proprio coraggiosissimi. Tornate dentro, cretini!